E' stato ucciso la sera del 19 ottobre 1984 in un contesto di pieno odio alla fede. Questo è stato il triste epilogo della vita del beato martire Jerzy Popilusko, un sacerdote polacco che ha impostato la sua missione sullo slogan di vincere il male con il bene, una figura di riferimento per il mondo del lavoro della Polonia di allora, in pieno clima di Solidarność. In occasione del 28esimo anniversario della sua nascita in cielo, la reliquia è stata traslata presso la chiesa parocchial di Santa Maria in Rosciano di Fano, accolta da una comunità di fedeli riunita durante la santa messa preseduta dal vescovo Armando Trasarti. Presente alla celebrazione anche Don Czeslav Banaschievic, che ha vissuto per sei anni a stretto contatto con padre Popilusko. Per prepararci a questo importante evento, mercoledì 17, è stata proiettata la biografia del beato presso il centro pastorale di Fano. In questa occasione Don Czeslav ha sottolineato la grande forza spirituale, la grande fede di Popilusko, che confidava a chi gli stava vicino di essere consapevole del fatto che non sarebbe restato a lungo con loro, ma che avrebbe portato avanti fino alla fine la sua vocazione. E non possiamo dimenticare i nostri martini. Perché i motivi per i quali loro devono dedicare la loro vita stanno dentro di noi. In questo momento sono stati distribuiti circa 500 reliquiari con le reliquie di padre Popilusko in diversi luoghi del mondo.